L'esperimento del Campolargo, almeno sulla partita delle nomine per il Consiglio di Amministrazione Rai, può dirsi fallito. La formula di una grande alleanza tra tutti i partiti di opposizione non tiene e sia al Senato che alla Camera ciascuno va per conto suo e l'opposizione vota divisa. Che giravolta? Noi siamo stati sempre coerenti. Guardi, il PD è rimasto sulla posizione che era di tutte le opposizioni fino a ieri, quindi al massimo dovete chiedere altri perché hanno cambiato quella posizione. In sostanza il PD resta sulla posizione di non rinnovare il CDA Rai in assenza di una riforma complessiva dell'azienda che metta fine al metodo della spartizione politica ed esce dall'aula di Montecitorio al momento del voto. Allo stesso modo si comportano i deputati di Tagliavive di azione. Così alla fine vengono eletti nel Consiglio di Amministrazione di Gale Mazzini dalla Camera Federica Frangi, giornalista del Tg2 per Fratelli d'Italia. E' Roberto Natale, dirigente Rai, già portavoce dell'ex Presidente della Camera, Boldrini, per alleanza Verdi e Sinistra. Antonio Marano e Alessandro Di Maio sono invece i consiglieri eletti dai senatori, il primo in quota Lega, il secondo vicino al Movimento 5 Stelle. Anche al Senato, PD, Tagliavive e Azione non hanno partecipato al voto. Completano il Consiglio di Amministrazione Rai, Simona Agnes, impredicato di diventarne Presidente, e Giampaolo Rossi, probabile amministratore delegato, designati dal Ministero dell'Economia, e Davide Di Pietro, membro eletto dai dipendenti.